Indico la votazione nominale sulla risoluzione Baldelli, Carrescia, Terzone, Tancredi, Zaratti, Castiello, Galgano, Gigli, Rampelli, Palese, Vezzale, Pisicchio, numero 6, 260, su cui il Governo ha espresso parere favorevole. Dichiaro aperta la votazione. Quindi, Pilozzi, hanno votato tutti? Bene. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevole, 327. Contrari, nessuno. La Camera approva. Allora, passiamo alle comunicazioni. C'è la modifica della composizione di gruppi parlamentari. Comunico che, con lettera pervenuta in data odierna, il deputato Andrea Vecchio, già iscritto al gruppo parlamentare Scelta Civica per l'Italia, ha dichiarato di aderire al gruppo parlamentare misto. Cui risulta, pertanto, iscritto. Poi, approvazione in Commissione. Comunico che, nella seduta di oggi, mercoledì 28 settembre 2016, la Quarta Commissione Permanente Difesa ha approvato in sede legislativa la seguente proposta di legge. Burtone, istituzione della giornata nazionale delle vittime civili di guerra, con il seguente nuovo titolo, istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. Avverto che, in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, sarà pubblicata l'Organizzazione dei tempi per la discussione...